Io adesso se ci penso a distanza di quasi 11 mesi, non lo so, ancora non lo riesco a realizzare, non mi sembra vero. Ciao Xigira Cherries, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Sakuri e come avrete intuito dal video, oggi ho un annuncio importante da fare. Cercherò di essere breve oggi, ma prima di partire con il video vi ricordo se volete che potete supportarmi iscrivendovi al canale, lasciando un mi piace o un commento sotto il video. Ovviamente se apprezzate il contenuto del video, oggi non si parlerà molto di Norvegia, ma si parlerà di più della mia vita privata. Se non volete perdere aggiornamenti sui contenuti che pubblico potete attivare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E se volete seguirmi più nel mio quotidiano pazzo qui in Norvegia e vedere come me la so passando, potete seguirmi sugli altri social che uso, Instagram, Facebook, Telegram e TikTok. Andrò dritta al sodo perché appunto avete letto il titolo e non ha senso fare la misteriosa, quindi io e l'ingegnere ci sposiamo a breve, brevissimo in realtà. Cerchiamo di procedere un po' con ordine in questo video, anche se in realtà non so bene cosa voglio dire né come voglio dirlo perché... Non lo so, sono passati un po' di mesi ormai dalla proposta, però io quando ci penso mi emoziona ancora, quindi sono un po' confusa. Ok, da qualche parte dobbiamo incominciare. La proposta. Diciamo che non è stata una cosa del tutto inaspettata perché comunque il matrimonio era una cosa di cui avevamo già parlato, di cui avevamo già discusso ed eravamo d'accordo entrambi sul fatto di volerci sposare domani. Non l'abbiamo fatto prima perché comunque dopo esserci laureati in Italia abbiamo avuto a livello lavorativo una situazione non direi precaria, però non ottimale. E comunque avevamo già deciso di trasferirci fuori dall'Italia, poi aveva la scelta ricaduta sulla Norvegia. Quindi ovviamente essendoci dovuti spostare in un paese straniero senza lavoro ancora, senza contatti, comunque con lavoro sì, però non entrambi, non super sicuro e super pagato. Quando la situazione non era delle più stabili, abbiamo prima cercato di concentrarci sul crearci appunto una situazione lavorativa e economica più solida. Quindi sicuramente il matrimonio non era nei nostri piani nel breve termine in quella situazione. Quindi quando la proposta è arrivata diciamo che non è stata una cosa del tutto completamente inaspettata della serie. Oh mio Dio dove l'ho tirata fuori quest'idea. Perché comunque come dicevo ne avevamo già discusso, erano i nostri programmi a lungo termine, però appunto a lungo termine. Quindi non me l'aspettavo in quel momento lì. Per cui da questo punto di vista sì è stata inaspettata, molto molto gradita ovviamente, e mi sono emozionata moltissimo. Calcolate che io, cioè, non mi emoziono mai e per niente. È molto 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 raro che io esprima delle sensazioni, dei sentimenti, delle emozioni umane. Quindi immaginate per me è stata proprio una massima espressione di emotività mai vista nella vita. Quindi questa proposta ormai c'è stata circa 11 mesi fa e per me è ancora come se fosse successo ieri. Cioè veramente questi 11 mesi sono volati. È successo di tutto, ma sono veramente volati se ci penso, mi sembra davvero ieri. E il matrimonio sarà tra poco, perché manca meno di quattro settimane. Ci sono ancora gli ultimi dettagli da definire, non siamo in alto mare, però comincio a sentire un po' la pressione. Non lo so. Penso che voleranno anche queste prossime settimane, mancano precisamente 26 giorni. Sono veramente... Non lo so. Quindi questo video per appunto farvi ufficialmente questo annuncio, perché comunque da quando ho aperto il canale mi sento anche un po' di dovervi aggiornare su tutti gli sviluppi della mia vita. Non che mi senta obbligata, però mi sembra una cosa carina. E anche per dirvi che comunque arriveranno alcuni contenuti relativi al matrimonio. Saranno relativi all'organizzazione di un matrimonio per italiani residenti all'estero. Cosa che abbiamo scoperto con nostra somma gioia essere abbastanza complicata. Cioè già queste cose burocratiche non vanno mai lisce. Ci sono sempre degli step un po' incasinati. Però all'organizzazione di un matrimonio che già è complessa per italiani in Italia, se si risiede all'estero si vanno ad aggiungere anche delle altre piccole rotture di scatole. Rotture di scatole no, però diciamo ci sono dei passaggi in più. Bisogna portarsi un po' avanti con i documenti, le richieste e tutto quanto. Quindi ho pensato che anche non essendo comunque un contenuto prettamente riguardante la Norvegia, comunque mi seguono un po' di persone che o si vogliono trasferire qui o comunque vogliono trasferirsi all'estero. E se riesco ad aiutare anche solo una coppia a fare questo processo in modo un po' più semplice di quello che è stato per noi, lo considero già un grandissimo successo, quindi ho pensato che poteva essere interessante. Poi come dicevo mi piace anche l'idea di condividere con voi delle cose un po' più personali della mia vita. E pensavo magari di raccontarvi un po' come abbiamo gestito l'organizzazione. e non vi dico ancora niente, non vi dico né dove né quando né cosa, né come nulla, perché appunto voglio fare dei video in cui magari vi faccio anche vedere qualcosina, quindi mi sembrava un po' più carino farlo in quel modo. E onestamente non lo so cosa succederà quel giorno, quindi non lo so se riuscirò ad avere il tempo, la testa, l'energia per, non dico vloggare, però fare qualche piccolo video, se riuscirò, magari se vi può interessare, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, magari vi pubblico anche un piccolo video sulla giornata del nostro matrimonio, altrimenti comunque se riuscirò a fare qualcosa rimarrà anche un ricordo solo per noi, vediamo. Se vi posso fare un piccolo spoiler, diciamo sul mood del matrimonio, ecco senza svelare troppo, diciamo che è tradizionale ma non troppo, che secondo me ci rispecchia un po' come stile di coppia, Sì, lo definirei tradizionale ma non troppo, un tocco di modernità e di brio che ci contraddistingue, ecco. Tra l'altro io mi sono anche stupita che nessuno mi abbia chiesto niente in questi mesi, perché, cioè non che la gente stia a pensare a me che mi sposo tutto il giorno, nel senso che cosa vi interessa però, ci sono stati un po' di indizi in realtà sparsi in diversi video che ho pubblicato negli ultimi mesi, quantomeno negli ultimi sei mesi, uno gigantesco quando avevo messo il video, uno dei vlog di Oslo, l'ultimo che avevo pubblicato, magari ve lo lascio linkato qui in alto, e l'avevo anche detto siamo venuti ad Oslo in consolato per fare dei documenti di cui non vi dico niente, e ve ne parlerò più avanti, ecco, era per questo, era per fare i documenti per il matrimonio, poi comunque vi spiego il tutto come funziona, e qualcuno aveva anche scritto sotto nel video, forse ho detto io, ho detto vi lancio questa challenge, potete indovinare se volete cosa sono venuta a fare, non mi ricordo, comunque mi ricordo che qualcuno aveva commentato siete andati perché dovete sposarvi in Norvegia e vi servono i permessi eccetera eccetera, io avevo commentato soltanto ah no, non penso che mi vorrei sposare in Norvegia o una cosa del genere, però ho lasciato cadere la cosa lì e non ho detto niente, poi visto che non è proseguita oltre nei commenti, ho detto ok, non si è accorto nessuno, mentre invece l'anello si è visto in tanti video, sono proprio tanti tanti, tantissimi no, però si è visto abbastanza bene, e anche lì un po' mi sono stupita, ho detto ma secondo me qualcuno potrebbe scrivermi qualcosa, perché comunque vedete che non indosso quasi mai niente collane, ogni tanto si mi agghindo, quando faccio i video se voglio essere un attimino un po' più sistemata, però è capitato magari di avere qualche anello, gli orecchini, però si vede che sono una persona anche sugli altri social, Instagram, TikTok, si vede che non ho mai niente, quindi ho detto secondo me, ero in giro che facevo i vlog, ce l'avevo addosso, non sto a toglierlo per fare il vlog, anche se si vede, anche quando editavo, si vede tanto, però non fa niente, nel senso se qualcuno mi chiede qualcosa, non è che, non ho fatto del male a nessuno, insomma non devo tenere cosa da tenere nascosta, e qui probabilmente potreste chiedermi, ma perché allora non hai detto niente prima, ma non è che io le cose le voglia tenere nascoste, cioè come dicevo condivido tranquillamente cose anche della mia vita privata, il fatto è che non è che non fossimo sicuri di riuscire a sposarci, però visto che la cosa stava andando un po' per le lunghe, più del previsto, ed è stata un po' più complicata di quello che avevamo previsto, ho detto io non vorrei, poi anche con pandemia di mezzo, insomma, si vede che la cosa sta andando a migliorare, però negli ultimi due anni, tante persone hanno dovuto cancellare o rimandare, quindi ho detto, non voglio dire questa cosa, e poi trovarmi a rispondere a domande, dal tipo, ah ma perché non ti sei sposata più, ma cosa è successo, ah ma avete dovuto rimandare, perché comunque mi è capitato diverse volte magari, di annunciare cose belle, piacevoli della mia vita, non dico sui social, cioè in generale, che poi sono andate a scatafascio per una serie di motivi, dover cancellare tutto all'ultimo quasi, cioè lo so che le persone lo fanno in buona fede, non è che vogliono farsi i cavoli miei o farmi notare il fatto che, ah guarda questa cosa che devi fare non l'hai fatta più, però anche in buona fede facendomi domande, 1, 2, 3, 5, 10, 50, io continuo a pensare a una cosa che non sono riuscita a portare a termine, e mi, veramente mi demoralizza, e quindi normalmente queste cose le racconto a cose fatte, quindi ecco, cioè quando c'è qualche novità nella mia vita, novità importanti o interessanti o curiose, sappiate che lo verrete a sapere, sempre, però a cose fatte, non è cattiveria veramente, perché è una cosa mia, non siete voi, sono io, e nulla, questo video è stato probabilmente molto, molto caotico, in fase di editing, sicuramente mi verrà da dire, ma, cioè, non si capisce cosa, cosa voglio dire, arrivo al punto o che cosa, però capitemi, sono ancora, sono ancora in modo, io è un anno che vivo così, tutto emozionata, quei cuoricini negli occhi, in testa, adesso vado ad organizzare un po' di cose matrimoniali, alla prossima, grazie per aver visto il video, un bocione, adebra!